Bentornate nel mio caso per la colazione della domenica vi consiglio questo morbidissimo plum cake allo yogurt e gocce di cioccolato lavorate 3 uova a temperatura ambiente con 160 grammi di zucchero se non sei ancora iscritto al mio canale clicca qui sotto su iscriviti e attiva la campanella aggiungete uno yogurt intero bianco a temperatura ambiente un cucchiaino di estratto di vaniglia e scorza di limone grattugiata poi aggiungete 50 grammi di fecola di patate 150 grammi di farina 00 e una bustina di lievito per dolci cominciate a lavorare con le fruste e poi aggiungete 100 ml di olio di mais o di girasole ed infine un pizzico di sale comunque vi lascio la ricetta scritta nell'info box se vi piacciono potete incorporare all'impasto 160 grammi di gocce di cioccolato oppure uva sultanina versate l'impasto in uno stampo piccolo da plum cake imburrato e infarinato e infornate a 160 gradi per 40 minuti statico mi raccomando fate sempre la prova a stecchino fate raffreddare e buona colazione o merenda a tutti voi ciao